Il melanoma è un tumore che si sviluppa da alcune cellule della nostra pelle che si chiamano melanociti e sono quelle cellule che formano i nevi e che creano l'abbronzatura quando ci esponiamo al sole. È un tumore che usava essere raro in Italia fino a qualche decade fa, purtroppo in aumento ed è diventato il terzo tumore più frequente nelle persone sotto i 50 anni. Circa 14.000 nuovi soggetti sviluppano melanoma ogni anno in Italia e purtroppo questo numero è in aumento, un po' legato al fatto che il sole ha cambiato le sue caratteristiche e le nostre abitudini di esposizione al sole sono un po' cambiate, soprattutto 20 anni fa. Noi possiamo curare la maggior parte dei melanomi se vengono diagnosticati in maniera precoce nella fase iniziale. Una semplice chirurgia può rimuovere il melanoma e guarire il paziente. Purtroppo in alcuni casi questo non è possibile, la malattia viene diagnosticata già in fase metastatica e questa è una situazione in cui qualche decennio fa non c'era speranza di trattamento. I pazienti con melanoma metastatico morivano in pochi mesi, ora per fortuna da 10 anni abbiamo delle nuove strategie terapeutiche molto efficaci, una delle quali è rappresentata dall'immunoterapia che è rappresentata nell'oncologia attuale una grande rivoluzione nel quale il melanoma è stato il prototipo, il tumore che ci ha permesso di studiare questa nuova strategia terapeutica. Il melanoma è stato per anni considerato l'unico tumore immunogenico, cioè in grado di stimolare le nostre difese immunitarie e per oltre 50 anni i ricercatori hanno trovato modo per stimolare la risposta immunitaria e renderla una strategia terapeutica per controllare la crescita del melanoma che non rispondeva alle altre terapie come la chemioterapia e la radioterapia. Grazie allo studio del melanoma abbiamo capito che questi meccanismi con cui il tumore stimola le risposte immunitarie non sono uniche di questa neoplasia ma sono tipiche di molti tumori indotti da cancerogeni come per esempio il tumore del polmone che è indotto da fumo, il tumore del rene, alcuni tipi di tumore del colon e così via. Quindi grazie al melanoma abbiamo scoperto che l'immunoterapia può essere una strategia valida nel trattamento dei tumori in molte neoplasie e non solo in queste legate alla cancerogenesi dei melanociti. Il melanoma è associato all'esposizione al sole soprattutto in quei soggetti che hanno una tipologia di pelle chiara, capelli chiari, occhi chiari, quindi il fototipo diciamo chiaro che indica proprio l'incapacità della pelle di proteggerci spontaneamente attraverso la produzione di melanina. Quindi l'esposizione al sole soprattutto intermittente e in maniera scorretta è associata proprio allo sviluppo di melanoma. Avere anche molti nevi è un indice di rischio così come familiarità, ereditarietà di questa malattia nella famiglia. È stato anche dimostrato che essere stati sottoposti a scottature in età infantile o in adolescenza, e c'è uno studio che dimostra addirittura il numero preciso, c'è più di 5 scottature, rende il rischio di melanoma 6 volte maggiore nella popolazione appunto soggetta a questa esposizione scorretta rispetto alla popolazione diciamo normale. Quindi il fattore di rischio più importante è l'esposizione al sole scorretta. Dobbiamo quindi prendere provenimenti importanti, sappiamo che l'esposizione al sole deve essere molto controllata, soprattutto nelle ore centrali del giorno deve essere evitata, principalmente nei soggetti che hanno appunto questo fototipo di cute chiara e bisogna esporsi sempre protetti con filtri solari importanti e sufficientemente coprenti che vanno somministrati ripetutamente durante l'esposizione e vanno utilizzati in maniera propria per evitare che i danni dei raggi ultravioletti portino appunto allo sviluppo di questa malattia. È molto importante per i soggetti predisposti, quindi soggetti che hanno pelle chiare, occhi chiari e capelli chiari, che hanno molti nevi, fare un controllo rutinario ogni anno. E per tutti noi è giusto fare almeno una volta una mappatura nevi dallo specialista, ci sono molti centri in Italia che fanno questo, in modo tale da controllare la situazione della nostra pelle, vedere se ci sono lesioni sospette e procedere eventualmente nella diagnosi precoce del melanoma perché appunto se lo diagnostichiamo in tempo reale, in tempo breve, noi possiamo guarirlo con l'80-90% delle probabilità. Quindi è importante prevenire questo tumore attraverso un controllo della pelle rutinario e regolare. Grazie per la visione!